Il rifugio Ada di Arco ha aperto ieri le sue porte per la prima di una serie di domeniche mirate a far conoscere il centro e suoi amici a quattro zampe. All'invito hanno risposto tanti soci e simpatizzanti, proprietari di cani e non. Tra i presenti anche gli assessori Silvia Girelli e Stefano Miori, in rappresentanza dell'amministrazione comunale arcense. L'Ada intende far conoscere le attività del centro, diffondere la cultura dell'amore per gli animali e sensibilizzare le persone rispetto alle loro problematiche. Dall'Associazione Difesa Animali sono passati non solo i cani, ospitati anche un maiale, diverse tartarughe e un coniglio. Il centro ha aperto per le visite tutte le sere dalle 20.30 alle 22.30. Come mai si è deciso di inventare questa domenica di festa per tutti i meticci? Abbiamo deciso di inventarla perché vogliamo prima di tutto far conoscere il nostro rifugio animali alla gente che magari ha ancora da vederlo, vedere la nostra struttura che è una struttura all'avanguardia a livello provinciale, direi anche a livello regionale. Vogliamo far conoscere i nostri collaboratori, dei nostri volontari e alla gente che viene a trovarci per far vedere quanto lavoro c'è e quanto impegno c'è a venire a collaborare con noi e speriamo vengano nuovi volontari perché qua c'è da lavorare 365 giorni all'anno tra cani e gatti e quindi benvengano i volontari. E soprattutto perché vogliamo anche far conoscere un modo di gestire i cani. Abbiamo delle volontari che sono esperte in gestione animale e quindi se qualcuno vuole chiedere informazioni o vuole chiedere chiarimenti su come gestire un cane, noi siamo a disposizione. Quante sono le presenze ad oggi di questo rifugio? Allora, ad oggi sono, in questo momento abbiamo cinque cani da dare in adozione che però molti sono venuti a vedere, però purtroppo essendo cani che hanno una certa età è difficile dare in adozione perché tutti purtroppo cercano i cuccioli. Io invece continuo a insistere che a volte danno più soddisfazione cani di una certa età che non i cuccioli. Poi abbiamo per il momento cinque cucciolate di gatti gattini appena nati che noi raccogliamo dalle colonie fedine e il nostro lavoro comprende anche raccogliere le gatte nelle colonie fedine e sterilizzarle e rimetterle sul territorio. Però a volte purtroppo la gente ci chiama solo quando le gatte hanno fatto i gattini e dobbiamo raccogliere anche i gattini. Attualmente abbiamo qua tre, quattro mamme con cinque gattini per mamma quindi chi volesse dei gattini è invitato a venire al gattile a vederli e noi possiamo darli in adozione fra circa 60 giorni.